A 10 minuti d'auto da Città Ducale, sempre lungo la piazza l'aria, si arriva a Cotilio. Questa località è famosa per le sue acque termali. Sono benefiche per l'organismo e vengono utilizzate per molti trattamenti riabilitativi ed estetici, oltre ad essere curative per le malattie respiratorie e molto altro. Passando di qui, oltre a poter bere liberamente quest'acqua terapeutica dal sapore veramente particolare, si può mangiare un'ottima porchetta ed altri esquisiti prodotti tipici. Ma noi siamo venuti da queste parti soprattutto per vedere i resti delle terme antiche, fatte costruire dall'imperatore Vespasiano in epoca romana. A nostro arrivo però vediamo che gli scavi sono chiusi, anzi la nostra impressione è stata che fossero proprio in uno stato di abbandono. Un vero peccato per un sito archeologico così bello. Sembra che la natura si stia riappropriando di questa meraviglia, per preservarla come l'uomo non sa fare. Spero di sbagliarmi e mi auguro che le istituzioni continuino a proteggere una località importante come questa, scelta dagli imperatori Vespasiano e Tito come residenza estiva e dove decisero di passare gli ultimi giorni della loro vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.